ciao a tutti pischelli e benvenuti in questo nuovo episodio di minecraft moddato è meglio e siamo in compagnia il signor deathmau e il signor zliner ciao e il signor mama salve a tutti ragazzi allora signori siamo andati avanti un po' con la casetta qui stiamo sistemando, alla fine abbiamo visto che alcuni di voi ha scelto questo tipo di materiale alcuni un altro tipo ma questo è il migliore secondo me secondo me è il migliore quindi abbiamo scelto questo layout qua e sopra abbiamo fatto un'altra stanza in questo stile metteremo anche qui i muri fatti come sotto e qua sopra invece abbiamo fatto questo brick qui che è molto fantasticissimo che sta molto bene e staglia un po' con tutto il resto e ok e abbiamo spianato anche il sopra dove andremo poi a fare delle farmine e basta ah ho craftato questi tubi qua per chi non lo sa nella 1110 hanno aggiornato la thermal alla 4. qualcosa e c'è un addon che si chiama dynamic thermal dynamic thermal dynamic grazie dad thermal dynamic che aggiunge i tubi della thermal con tutti i loro upgrade finalmente quindi oggi andremo a utilizzarli e semplicemente questi tubi ci ne sono diversi tipi adesso vi faccio vedere molto velocemente una carrellata sono tutti questi ne hanno aggiunti parecchi e anche di nuovi semplicemente con la nail shiftando su ci fa vedere cosa fanno questi tubi e poi ci sono i vari upgrade che sono qua sotto anche questi shiftando ci fa vedere tutte le varie combinazioni che possiamo fare ho fatto questi sono i base praticamente si fanno con tin e led come i vecchi tubi è un po' un ritorno alla thermal vera e oggi andremo a fare la farmina classica di legna che ci serve tanto signori ci serve tanto quindi planter già fatto stessi crafting soliti harvester e il fertilizer dove la facciamo? la facciamo sopra? e il planter? ce l'ho planter harvester e filter perché non ti avevo sentito scusami ok madonna quanta roba ah signor data ho ampliato un po' le farm qui prendi qualcosa da mangiare in questa cesta perché ce n'è troppa aspetta aspetta mi prendo delle uova visto che ne abbiamo un po' e queste te le lascio qui ok grazie ok quanto dà l'uovo? 3 2 e mezzo non male non male la facciamo lì dietro? eh facciamola lì dai così in caso poi l'energia gli la porto con tanto questa poi sparisce si 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 allora facciamola qua dietro dai scaviamo un attimo guarda poi vedi c'è sta c'è qua la finestra ok perfetto 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 va bene va bene mettiamo via sta schifo ok la faccio qua la faccio proprio qui in questo punto allora scaviamo un livello questo livello qui e qua ci piazziamo a terra subito il planter PEM andiamo via questo spack 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 e signori spero che questi episodi vi piacciono adesso con l'introduzione della thermal sarà un'altra storia andremo ad utilizzare comunque anche il linktenduk perché ho visto un po' youtube della thermal ma sono come si può dire cambiati un po' hanno aggiunto delle nuove futures futures si dice così non lo so e quindi hanno modificato un po' il sistema di trasporto un po' il sistema delle varie cose fa cagare fa cagare fa cagare allora il fertilizer lo piazzo qui come al solito e di qua ci mettiamo morte dell'alto io crafto dei barrel vai dad barrel anzi fai deep storage che sono più migliori assai adesso si 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 tanto ci vuole solo plastica e cagate varie mi serve mi crafto 4 una cesta me la faccio subito che dici 4 bastano? si 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 4 bastano foglie mele foglie mele e e legna quindi pem 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 allora cesta qui come al solito l'arvester c'è già energia non si sa perché ma tutte le volte che lo crafting anche il planter c'hanno già energia dentro questo è già mezzo carico ma va bene secondo me perchè lo tieni a fianco a una resonante tipo ma no non dovrebbe invece ma invece si 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 forse ho avuto l'inventario e me li ha caricati da reson eh la regione non ci avevo mai pensato ok torniamo a mettere in casa signori siete dei pro player ragazzi voi siete si spaccati i culi ebbe ebbe fino a una volta non so se è poco eh allora torniamo qui facciamo la plastica già craftita no la raw plastic se vuoi però qua dentro c'è della gomma dad cioè qua la plastica dovrebbe essere gomma 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 è qua plastic raw plastic la fai a 4 quella tipo polvere bianca allora andiamo a fare il basic servo che estrae come non la vedi è qui questo cesto non c'è te la faccio io aspetta stai garbo voilà abbiamo fatti i 4 tieni troppo tac ok non mi bastano stavo dicendo andiamo a fare i basic servo ok che sono praticamente richiedono segnali di resto estragono 3 secondi il rate massimo di sa 4 pochini vedete come hanno modificato praticamente ora non c'è più la possibilità di piazzare il tubo per dire a una cesta e sbranciarlo tipo così adesso vi faccio vedere mi serve un'altra plastica non c'è più la possibilità di sbranciarlo qua così cioè lo possiamo solo disabilitare da quella cesta ma non possiamo più per chi si ricorda con la vecchia terra ma si poteva sbicciare su questa cosa comunque ferro vetro delle nuggets di ferro e della reston quindi molto easy non trovo la plastica plastica dead aspetta le metto a cuocere ancora un po' che ce l'ho qua me ne servono due pezzi adesso ti arriva la plastica quella normale ferro 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 eccolo qua ferro mi serve del vatro dove è il vatro dead addio eccolo qua il vatro ok un attimo vedere perché io sto thermal non proprio capito ho dovuto rimettere quei cazzo di tubi di merda vetti aspetta 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 dove sei vai stai sopra stai sotto no la devo ricuocere eh però perché non c'erano i tubi qua della thermal l'enderai era oro vero? l'enderai è oro l'enderai è oro in effetti è oro no comunque non è difficile questa thermal nuova è solo abituarsi semplicemente come tutte le cose esatto l'hanno modificata perché sennò trasportavano allora facciamo un po' di basic poi ragà dove sta? siamo qui vorrei fare anche un invar visto che ci siamo e sto laggando signori sto laggando sono crashato? non lo so non lo so sono crashato? si signori nessuno risponde sono crashato non capisco ok signori eccomi tornato sarò crashato si sapeva ok grazie allora stavo facendo che cosa? stavo raccogliendo questi cosi ok benissimo benissimo io non vorrei promettermi nella tua registrazione ma tu sei sicuro che quella che è crashata si sente? si si sente si sente benissimo ho testato ho testato ho guardato si si ok ne ho fatto tre di deep storage dove è? dove è? dove è? si è fissato si è fissato sono fissato con questa canzone stasera ne 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 allora servo il glass il glass e voilà facciamo no facciamo facciamo un fail gigante no è giusto io sono in giro ad analizzare le robe ok e ho fatto anche questi qua ne ho fatti quattro extract i temi fluidi ragazzi estrai liquidi e fluidi non so se mi sono spiegato estrai liquidi e fluidi lo ripeto estrai liquidi e fluidi cos'è che estrai che non ho capito? liquidi e fluidi cazzo ma allora mi stai dicendo che estrai veramente anche i fluidi si si no non ci credo tutti in un tubo solo signori tutti in un tubo solo e volevo aggiungere anche che ci saranno dei tubi che estrae estraggono liquidi e energie signori oppure l'energia e gli item signori quindi fantastico cioè proprio allora i 3 di questo blocco ma i fluidi e i fluidi faccio un video su piazza sti cazzo state calmi state facendo allora questo qua poi scendiamo qui storage qui così io non ci butto già la legna ok si bravo oh sto buco però allora poi da qui dove usciamo in uno li ho sapling mettimi lì qua per favore mettili qua a fianco no qui è più figo black scusami spendo un sacco di tubi vieni qua fattelizzare tutto vieni qua fattelizzare tutto no black ma che brutta cosa dai stai calmo sposta il fertilizer cioè io pensavo l'avevi messo qua vuoi che giro la rovesta dalla parte lì dai lo giriamo va eh merda sei un mona e tutte le volte mi fai cambiare le cose vai via ricordati che da quello del centro devono uscire i sapling vai via i sapling i sapling i sapling ok hai visto dal centro devono uscire i sapling eh sì vabbè sì nel centro ci sono spiegami perché l'hai fatto passare sotto questo cavo eh aspetta devo tirarlo via quel cavo lì è quello sbagliato i sapling li devi fare uscire dal deep non dalla cesta stai calmo stai calmo ma cesta merda allora qua ci mettiamo la cesta ok poi i sapling li facciamo uscire dalla cesta direttamente poi quelli che sono pieni li mandiamo di là allora dalla cesta al deep storage dal deep storage al coso ma no conviene fare il contrario sono confuso sì 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 conviene fare il contrario ma voi avete il cacao qua cacao meravigliavo ok tanto dai ci possiamo mettere la priorità tanto non cambia niente sì ma aspettano facciamo due conti guarda guarda servo devi metterci il filtro intanto ce lo devo mettere comunque non estraggono niente allora se spianiamo un po' qui forse facciamo prima a fare tutte cose ok questo è senza distuoso ok allora qui andremo a mettere questo che è quello che estrae ok e ha bisogno di uscire di resta eh no sì sì ho sbagliato sono fuso devi capirmi che c'è carb stiamo arrecando ho la carb è ormai sceso perché l'ha fatto la fa un rito allora aspetta 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 ok qui qui deve estrarre scusate ho sbagliato io eh no sono fuso sono fuso devi capirmi ok lì deve estrarre ha bisogno di un segno di resta perché questo qui è proprio il base e quindi ci circolo se non gli mettiamo segno di resta non va eh fa le cose base ma non ti permette ma non lo potevamo fare prima come ho detto io fai calmo fai calmo scusa non serve neanche il filtro per dire e non serve neanche impulso di redstone per farlo uscire ma che poi perché non lo stiamo facendo con quelli dell'endraio scusi io li ho già craftati eh perché no perché no c'è un posto deve non è l'imposto che voglio farli con queste stavo guardando che c'era un altro di quelli che che tira più veloce aspetta volevo vedere se quelle che tirano veloci sono quelli che si fanno le piste col naso le piste le piste le piste di go-kart ho uno stack di item ma non mi stare addosso con quel coso voglio usare quelli da thermal per una volta ma fanno schifo bellissimi ma non fa prima ma non fa prima usare quelli dell'endraio però guarda analizziamo la situazione siamo in tre a guardare lui che lavora siamo in Italia siamo in Italia no io non sto guardando veramente no comunque per questo qua è quello che sta e basta io sto voglio vedere quello che inserisce dove cazzo è finito estrarre da qui e mandare qua esatto ma deve estrarre solo sapling si e c'è già il filtro c'è già il filtro integrato non facevamo prima con l'endraio direttamente a far uscire dal sud voglio farlo così allora sapere avete un albero di silverwood? magari white list questo non mi interessa ok estrai a 5 alla volta ho raccolto un coso qui 5 alla volta ah la priorità poi qua mettiamo questo facciamo così tac ok poi energia del serve serve energia fantasia ma è porta osmium batterie batterie direi che con l'endraio l'ho già finito tipo ma vabbè è già finito l'impianto lo so hai fatto un bordello di giri tipo no stai tu parlo a dire in giro qua madonna ma queste adesso vengo fuori stacco l'episodio qui dove siamo e ammazzo tutte le galline che abbiamo tutte le ammazzo tutte le ammazzo quelle cazzo di galline tipo 4 stack a botta ogni volta che esco da casa oh no cosiddine bellissime queste stronze ho le mie fregne qua ok facciamo sta turbina veloci che sennò quando la facciamo lapide sei calmo la mia stanza dei server è andata perduta sai che devi fermare il restarte no no è il restarte no adesso il restarte addio addio quanto crudele ok signore dopo il riavvio eccoci qua finalmente filiamo questo cacchio di impianto allora ho creatato telecamera spent dei basic universal cable e li facciamo passare qua ok qui questo tubo già non mi piace passi in mezzo e signor dead prima parlavamo del fatto che con questi tubi possiamo cioè con quei tubi della termo potevamo fare i tubi della termo della enderio si poteva fare una roba molto più easy cioè nel senso che facevi passare un cavo e passava dentro sia energia che ma si può fare anche con questi basta fare il cavo giusto semplicemente adesso siamo alla base quindi possiamo fare straffare siamo alla base usiamo in deraio scusa ma si esatto è solo per farli no ma non ci credo tac non ci credo si è piazzata al contrario cosa ecco ho analizzato una mela e mi è spuntata la fata di steve jobs ok ok e siamo stiamo a porno ok qui stai scherzando buttiamo entro questi dovrebbe portarceli sotto vediamo sono usciti dalla cesta eh no non è accesa forse qua infatti non è accesa qua scusami adesso si dica perché non li fai uscire dal deep storage perché dead mo te lo spiego ok via questo ok sono usciti dove sono andate a finire sono qui dove sono andate a finire quei sapling che c'erano nella cesta da nessuna parte no sono finiti nel deep storage allora si ahah sei un mona ecco per quello che ti ho detto fagli uscire da sotto e li mandi direttamente alle plante eh no io volevo metterli eh no io te l'ho detto perché stragono la sapposita allora facciamo così sì per forza te l'ho detto dall'inizio per non rischiare era sicuro era sicuro io voglio farli uscire dopo perché eh così almeno avevi cioè quelli in eccesso andavano a finire nel deep storage confuso lasciami stare è nata primo luogo lasciami stare dopo 12 ore di lavoro poi che capirmi allora quindi qui signori abbiamo fatto questa far vida li pianta sti sapling sono arrivati i sapling non arrivano i sapling signora perché perché non l'ho messo nel deep storage di fanci no è perché non l'ho messo in blacklist aspetta qui dammi qui io non capisco perché non l'abbiamo usato l'enderaio scusi oh che palle dopo te l'amo dici che te la faccio con l'enderaio se mi devi stressare così tanto per una farm oddio ma anche che due palle è per fare qualcosa di nuovo no come al solito no ma l'enderaio lo stai usando è come la nonna mangia mangia ragazzi gli ho portato tre cavi e andrai tu non lo stava con l'enderaio non lo stacca degli inventati scusate li ho anche io i cavi ok signori abbiamo fatto sta farbilla del cavolo che si fa tutte le volte che iniziamo la serie andrà all'infinita anche questa non consumerà sì consumerà energia ora poi qua gli attaccheremo una farm di bombilla quindi per fertilizzare tutte cose e quindi diventerà molto molto più veloce ok ce l'abbiamo fatta vedete devi star fermo questo cazzo di arco aia 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 signori io direi che siamo arrivati alla fine di questo episodio assurdo aia adesso ci ho mezzo porca puttana aia aia porca puttana ditemi voi come faccio a registrare io sto chiedendo agli utenti non a voi per estronzoni io non sto facendo nulla io ti posso solo dire una cosa tu dame ok signori siamo arrivati alla fine di questo episodio vi ricordo di lasciare un bel pollice in su se il video vi è piaciuto ripassate dal canale dei partecipanti che sono tutti in descrizione con tutti i link interessanti e per le varie cose e noi ci vediamo in un prossimo video della moddato e meglio dove faremo qualche altra farvina e qualche altra cosa con i cavi di l'endraio signori con i cavi di l'endraio vaffanculo adios che belli ciao grazie a tutti ciao